sì bentornati dragon in questo nuovo video raga, sono DRAGONBIT niente raga questa è un'altra vittoria stavolta diciamo molto ma molto bella quindi niente raga lasciate un like per supportare il video e per supportare il canale se non siete ancora iscritti iscrivetevi attivando la campanellina così che qualsiasi video e qualsiasi novità comprese live vi lascio il video buona visione va 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 fa niente non è vero questo faccio cazzo che vuoi entrare su c'è un nemico c'è un nemico c'è un nemico eh sabato no basta capisca lo cazzo il suo nemico c'è un nemico no basta capisca no basta capisca no basta capisca non basta capisca Grazie. 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 Io c'ho il mitraglione. E non mi ricordo qui dove stanno le mele. Non ce li ho proprio, sai? Gli amici qua, vedi? Lava a voi, eh? Giusto. Lava a voi. Giustissimo. Vedi che ti so due, vedi che ti ho posto. Ehi noveco. Ehm... Non posso fare double pump, ti ho lasciato il pompa Ce l'hai i razzi? Sto a posto, sto a posto Mi sono dovuto fare il medikit, fra Ti Ma come io ho ucciso un altro, mi credo che era ci sa chi lato là Mo ci prendiamo carrella, mo ci prendiamo da safe Imparate che lo cosa Sono causato un mitraio, no? Chi lo porta, io o tu? Con me Che cavallo, fra E' buono per andare subito in safe Ma è molto più veloce Noi quando fightiamo, mo sai che facciamo? C'ho sti bam, così arrobbiamo in safe Aia Infatti E vai E vai E si può congo, scimmio, a te una forza Un sballo, fra E' fatto bene, capito? Però non gira Ah ok E io questo caso ci posso arrivare O parquet O parquet E' Eh, come facciamo, eh? Ah, un sballo, bravo. Io appena ho dato a qualcuno te lo dico, eh? Così tu l'hai visto schifo e poi vai diamo. Aspetta, vediamo la safe dove è. Ok, fra, vai verso la safe. Eh, R2 per sparare, praticamente. Ma frate, ma è buono per andare in safe, eh? Ma faccelo cazzo. Ma se, stai driften. Driften. Ma non hai capito? Ma no, no, vabbè. Si può fare double pump, frate, da qui sopra. Aspetta, aspettate. mi sbaglio e stanno spaccando ho visto cosa che sei una mille vizie ma se le ascello tamo cadina che cambia posto non posso scendere ok sto bordello ci servissero poche scuole mi riesce io lo posso mandare i medikit altrimenti dobbiamo fare così va lo buttiamo un attimo lo posizioniamo e ci andiamo dentro eh si è logico voglio tolla oi eh che devi avere le granate appiccicose si praticamente lanci le granate appiccicose oh fra ma fammi trascicatino questo coso no non voglierà nessuno capito oh ah che impariato oh vabbè che vado a fa' però eh eh ci sta un'altra trappola che dici la piglia siamo ancora 20 di noi eh wow la si fa condotti bella ma che è difficile la si fa condotti però se fanno il peggio build battle ai razzi fra ok ok il video che vi arriva da noi non c'è ma che boffa 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 che non so qua lanciare a piglia facciamo e non lanciare a zilterri chissà ah ti ho piglia tu come ho fatto fra voi di voi di vieni ci stanno cerchionando capi non riesco a capire ecco una giusta allora oh ne sono due a terra uno e tenevi nei scellini che si ficca 340 materiali se vuoi e tenevi nel scellino fra e ora facciamo il falò oltre non c'è ragazzi oh fra muovete a muovete sagli 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 portali muovete fra muovete 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 Amore, 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 amore. Oh Fra, mi serve un'esceldina. Ascende, mi vado. Sì, si vado i donchi e i razzi. Quanti ti hai tu? Oh Fra, ok, te, 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 però è stata corta, eh? No pe, te, 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 te. Ah, veramente, mi vado. Grazie a tutti. Stai attento che uno è stato tramortito dalla tempesta, quindi siamo due contro uno contro uno, almeno che non è stato in animato l'altro. Dovremmo andare su qualche montagna, secondo me. Perché ho la brutta sensazione che stanno fai danno, cioè che stanno camperando? Oh, stanno fai danno, c'è una mamovra. L'ha andanza a noi, eh? Sono stati tramortiti due di loro. Oh, frà, siamo due contro due. Io spero che stanno là, frà. Eh, no. Ah, stanno qua, e vieni fra. Ehi, vieni qua. Ma però ci sono curati, cazzo. Dovrebbero stare qui sulla sinistra, vedi? A terra uno. Bam! Ehi, vieni qua. Ehi, vieni qua. Ehi, vieni qua. Ehi, vieni qua. Dio, vieni qua. Grazie a tutti.